La Chiesa come Madre Maestra vuole che ognuno di noi pensi alla propria morte, così Papa Francesco nell'Omelia della Messa del Mattino a Casa Santa Marta commentando il passo del Vangelo nel quale si racconta la vita normale prima del diluvio universale. E nella normalità affermato il Pontefice bisognerebbe fermarsi a pensare che la nostra vita avrà fine. Il Signore ci aspetterà per un incontro bello camminando insieme come fa un bravo medico che con dolcezza accompagna il malato fino alla fine. Pensare alla morte non è una fantasia brutta, è una realtà. Se è brutta o non brutta dipende da me, come io la penso. Ma che ci sarà, ci sarà. E lì sarà l'incontro col Signore. Questo sarà il bello della morte. Sarà l'incontro col Signore. Sarà Lui a venire incontro. Sarà Lui a dire vieni, vieni, benedetto del mio Padre. Vieni con me. Vieni, 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 vieni